Se giochi spesso ai videogiochi, c'è un oggetto di uso comune che sta lentamente deformando il tuo corpo. Pensi sia la sedia? No, ma se stai seduto, tipo così, poi ti viene mal di schiena. E forse il mouse? Ma va, quello al massimo ti fa venire un bollino rosso qui. Sto parlando di queste. Le apparentemente innocue cuffie da gaming sarebbero in realtà responsabili dell'inesorabile erosione della tua scatola cranica. Parecchi streamer e content creator hanno riscontrato la cosa, e in molti non l'hanno presa benissimo. In effetti anche io comincio a sentire un certo avvallamento. Chissà se questo fenomeno incide sulle capacità cerebrali. Vabbè dai, tanto peggio di così non può andare.